Buonasera, c'è rammarico dopo questa sconfitta perché la Salernitana nonostante le assenze, nonostante le difficoltà, era riuscita a tenere testa alla Juventus quasi fino alla fine. Buonasera a tutti, innanzitutto c'è grandissimo rammarico, grandissima delusione. La mia presenza molto atipica in questo contesto lo testimonia, il mister Inzaghi è molto molto arrabbiato questa sera e come tutto il club per degli episodi arbitrari che dal nostro punto di vista hanno penalizzato fortemente una buona prestazione della Salernitana che ha dimostrato anche stasera di essere una squadra viva, una squadra che crede fortemente nella salvezza e che crede che crede fortemente poi nei suoi mezzi. Gli episodi sono stati evidenti, li avete visti tutti quanti voi, l'ho anche appena detto alcuni colleghi di altre testate, insomma l'espulsione di Maggiore viziata da un fallo precedente su Simi, dal nostro punto di vista il fallo di Gatti molto pesante da espulsione, oltre a che un atteggiamento arbitrale dal nostro punto di vista molto discutibile in tutta la partita. Ecco questo è quello che come club, e ne approfitto anche di questa prima domanda, vogliamo ribadire anche perché ricordiamo che questa è una proprietà italiana, ci sono investimenti importanti che il dottor Livrino ha fatto e già le squadre piccole sono fortemente penalizzate per tante situazioni, i cinque cambi, la Coppa Italia che si gioca sempre in alcuni campi e stasera è stata ahimè un'altra testimonianza, per questo ribadiamo la nostra amarezza e già domani mattina capiremo come reagire con le istituzioni sportive. Buonasera dottor Milan, le chiedo al di là degli episodi è lecito attendersi anche perché i tifosi insomma lo aspettano di qui al, in vista anche già del derby con il Napoli, qualche innesto importante perché la sensazione che si è avuta oggi al di là degli episodi chiaramente insomma è che Inzaghi avesse poche occasioni diciamo così per provare a cambiare anche l'inerzia della partita oltre l'espulsione chiaramente di Maggiore che inevitabilmente ha condizionato un po' tutto il match. Grazie. Certo, intanto ne approfitto anche per ringraziare i nostri tifosi insomma per riempire la Rechi con una sezione meteorologica con quella di oggi non era semplice. L'arrivo del direttore Sabatini che voi stessi avete ascoltato qualche giorno fa ovviamente sta dando un'accelerata alla campagna di gennaio, il direttore Sabatini sta lavorando in maniera incessante, in contatto costante con il nostro Presidente già da alcuni giorni e si è intensificato nelle ultime ore. Io lascerai lavorare il direttore Sabatini, penso che sarà lui nei prossimi giorni a darvi eventualmente delle novità ma l'arrivo di una persona di grande esperienza e conoscenza del calcio, del mercato per noi è l'elemento più importante di questa accelerazione e di quanto ribadiamo questo club creda tantissimo nei suoi mezzi e nella propria salvezza. Altre sposte, per il volore, qual è la sposta con Cusola? Buonasera, volevo dire che ho sentito quello che hai detto da Zon e la risposta, ovviamente la comunicazione e la narrazione delle partite quando si gioca tra una grande e una piccola è sempre particolare. Per cui Marelli che passa per il santo che tutto sa e tutto sceglie e tutto decide ha confutato le vostre contestazioni. Ha detto, diciamo, la giurisprudenza calcistica dice che quelle decisioni erano giuste. Vado oltre, il problema non è forse solo la vicenda della mancata espulsione di Gatti o la seconda munizione di Maggiore, ma è appunto l'atteggiamento tenuto dall'arbitro. La domanda precisa è, la Salernitana ha cambiato atteggiamento, cioè questa non è la prima volta che subisce delle decisioni arbitrali, diciamo, ingiuste. Perché oggi alza la testa e dice basta, non ce la facciamo più? È come quando dici sui tavoli giusti. Domani c'è l'Assemblea di Lega, i tavoli giusti, il designatore, la telefonata del Presidente al designatore. La seconda cosa che volevo chiedere è il mercato. È vero, Sabatini adesso ci fa avere novità, immaginiamo presto, però si sapeva che D.A., Lassana, Coulibaly e Cabral sarebbero andati in Coppa d'Africa. Sarò sceluto Mazzocchi e oggi Inzaghi non aveva cambi, cioè la differenza l'hanno fatta purtroppo i cambi in quei mesi. È acerbo rispetto a determinate cose. Quindi queste due riflessioni, se è possibile, con chi parlerete in particolare è sul mercato. Grazie. Parto, grazie Franco, parto dalla seconda. Come dicevo, penso che ci sarà da questo punto di vista. Come sappiamo le operative di mercato non sono mai semplici, in particolar modo in questa parte dell'anno, non sono così immediate. Quindi noi confidiamo moltissimo nell'esperienza del direttore Sabatini e siamo convinti che la squadra verrà aggiustata nel modo migliore già a stretto giro. Rispetto alle prime riflessioni che mi sono state chieste, i tavoli ingiusti sono sicuramente quelli della FIGICI, della Lega e dell'AIA. Perché insomma, e quello che poi era, come ha evidenziato la giurisprudenza, è una giurisprudenza da ambo le parti. Quindi anche noi cercheremo di capire, ovviamente perché la risposta è stata data in real time cinque minuti fa. Quindi vorremmo anche noi entrare più nello specifico, cosa che faremo nelle prossime ore. Perché insomma, è vero che siamo nuovi nel calcio, ma come si evidenziava vogliamo puntare i pugni sul tavolo in maniera molto evidente. Anche per, ribadisco, difendere poi degli investimenti importanti, perché forse questo è più l'albero che mi confà come ruolo aziendale all'interno del club. Non dimentichiamo che gli investimenti del Presidente del Brunio sono stati tantissimi e vengono poi sviliti da situazioni come queste. Buonasera, intanto volevo capire, la decisione di non parlare è di Inzaghi o della società? Se mi risponde su questo, poi ho un'altra cosa. Buonasera, c'è grande coesione all'interno del club. Diciamo che è stata una decisione presa a quattro mani, dal Ministro Inzaghi, dal Presidente Revolino, dal sottoscritto, ma con la tranquillità di un club fatto di persone che in maniera coesa portano avanti gli interessi e portano avanti l'obiettivo principale che per noi è la salvezza. E poi volevamo evidenziare con la mia presenza, appunto, uso una parola un po' diplomatica, voi me lo dite sempre, però sono il grandissimo disagio e disappunto di questo club per l'abitraggio di stasera. A tal proposito, Inzaghi non parla, ma insomma stasera la Salernitana ha dato dimostrazione ancora una volta forse di essere anche con l'allenatore che qualche tempo fa era finito sulla graticola, diciamo che con Milan, Verona e anche la prestazione di stasera che non porta punti rinsalda la sua panchina. Sabatini era stato anche ben poco criptico con le sue dichiarazioni, non blindandolo particolarmente, si va avanti convintamente con Inzaghi, insomma ha rafforzato la sua posizione, grazie. Inzaghi dal nostro punto di vista non è mai stato posto in discussione, è vero che proprio in un contesto simile a questo qualche settimana fa il direttore Sabatini nella sua presentazione ha, rispondendo proprio a una domanda da parte vostra, forse lasciato poi esagire il contrario, ma ovviamente conosciamo benissimo la grande elevatura del direttore Sabatini che giustamente pone tutti in discussione, io a volte ve lo evidenzio sempre, siamo tutti da sottoscritto allenatore all'ultimo giocatore, sempre nel calcio, sempre in discussione, quindi a questo punto di vista il concetto è questo. quello che si evidenziava appunto alle ultime tre partite testimoniano invece, mi preme sottolineare, una squadra che sta lottando, sta lottando in maniera veramente incommiabile in tutte le situazioni con le grandi e anche nei campi più difficili perché crede fortemente in questa salvezza e insomma siamo molto confidenti. Roberto Guerriero, la terza dello sport, chiudiamo? Ciao Maurizio, buonasera, volevo chiederti, prolungo la domanda iniziale, hai parlato di atteggiamento arbitrale, quando parli di atteggiamento arbitrale ti riferisci se puoi entrare un po' più nello specifico, non mi riferisco agli episodi, hai detto a un certo punto l'atteggiamento, non ci è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro durante presumo la conduzione della gara, a cosa ti riferisci, vi riferite? Ma in maniera abbastanza evidente, penso forse sotto gli occhi di tutti i continui richiami a Costil, poi non sono stati fatti da altri, i continui richiami a Costil, cosa che non è stata fatta dall'altra parte o situazioni analoghe durante tutti i 90 minuti, ecco questo mi riferisco, poi è ovvio quando ci sono degli episodi così eclatanti che vanno a demarcare in maniera così netta un risultato di una partita, è qui che abbiamo trovato corretto ribadire, alzare la voce e oggi lo facciamo pubblicamente con voi e domani lo faremo con le istituzioni sportive in maniera un po' più formale.